Capitolo 12 Il signor Fisher faceva un salto da noi nel corso dell'estate, durante qualche weekend e sempre la prima settimana di agosto. Era un dirigente di banca e allontanarsi dal lavoro per lungo tempo era, a suo dire, semplicemente impossibile. A ogni modo preferivo i momenti in cui non c'era ed eravamo soltanto noi. Quando il signor Fisher veniva in città, cosa che accadeva di rado, cercavo di sedere più composta. Eppure gli altri, beh, tutti tranne Susanna e mia madre, ovviamente. La cosa buffa era che mia madre conosceva il signor Fisher da quando lo conosceva Susanna. Erano andati all'università insieme. Susanna mi diceva sempre di dargli del tu, ma io non ci riuscivo. Mi suonava strano. Mi sembrava più giusto dargli del lei e Steven faceva altrettanto. Penso che fosse qualche sua caratteristica a spingere le persone, e non soltanto i ragazzi, a dargli del lei. Secondo me, lui preferiva così. Arrivava il venerdì sera all'ora di cena e noi lo aspettavamo per metterci a tavola. Susanna gli preparava il suo drink preferito, whisky e ginger ale, di modo che lui lo trovasse pronto. Mia madre la prendeva in giro per questo, ma Susanna non se ne curava. In realtà, mia madre prendeva in giro anche il signor Fisher e lui contraccambiava. Forse prendere in giro non è l'espressione giusta. Si trattava più di battibecchi. Battibeccavano molto, ma sorridevano pure. Era divertente. I miei genitori, prima di divorziare, litigavano raramente, ma nemmeno ridevano un granché. Secondo me, il signor Fisher era di bell'aspetto per essere un papà. Era più affascinante di mio padre, ma anche più vanitoso. Non so se fosse bello quanto Susanna, ma questo forse è dovuto al fatto che volevo bene a Susanna più che a chiunque altro, e dunque la consideravo impareggiabile. A volte è come se le persone nella nostra mente fossero milioni di volte più belle. È come se le vedessimo attraverso una lente speciale. Ma forse, se è così che le vedi, è quello il loro vero aspetto. È come la questione dell'albero che cade nella foresta. Il signor Fisher davano ai ragazzi una banconota da venti ogni volta che andavamo da qualche parte. Era sempre corra da prenderla in custodia. Per il gelato, ci diceva, compratevi qualche dolciume. Qualche dolciume. Ci proponeva sempre qualche dolciume. Conrad adorava suo papà. Era il suo eroe. Quanto meno lo è stato per lungo tempo. Più a lungo di gran parte delle persone. Io penso che mio padre abbia smesso di essere il mio eroe quando lo vedi con una sua dottoranda dopo la separazione da mia madre. Non era neppure carina. Sarebbe facile incolpare mio padre per tutta quanta la faccenda, il divorzio e il nuovo appartamento. Però, se c'era qualcuno da incolpare, quella era mia madre. Perché mai doveva essere così calma, così placida? Perlomeno mio padre piangeva, soffriva. Mia madre non diceva nulla, non rivelava nulla. La nostra famiglia si stava dividendo e lei si comportava come se niente fosse. Non era giusto. Quando a fine estate tornammo a casa, mio padre si era già trasferito portando con sé i suoi libri di Hemingway, la sua scacchiera, i suoi cd di Billy Joel e Claude. Claude era il suo gatto e apparteneva a lui più che a chiunque altro. Era giustissimo che se lo fosse preso, eppure ci rimasi male. In un certo senso, la sua sparizione fu peggiore di quella di mio padre. Perché Claude viveva costantemente in casa, occupando ogni singolo spazio. Era una sorta di padrone di casa. Mio padre mi portò a pranzo fuori e mi disse, con tono di scusa, «Perdonami se ho preso Claude. Ti manca?». Per gran parte del pranzo, la sua barba, da poco ricresciuta, fu imbrattata di maionese. Era irritante. La barba era irritante. Il pranzo era irritante. «No», risposi. «Non riuscivo a distogliere lo sguardo dalla mia zuppa di cipolle». «E poi, è tuo». Perciò mio padre si tenne Claude e mia madre si tenne Steven e me. Era la soluzione giusta per tutti. Vedevamo papà quasi tutti i weekend. Stavamo nel suo nuovo appartamento, che sapeva di muffa, malgrado tutto l'incenso che accendeva. Io odiavo l'incenso e anche mia madre lo detestava. Mi faceva star notire. Secondo me, mio padre si sentiva indipendente ed esotico ad accendere tutto l'incenso che voleva in quella che lui chiamava la sua nuova casetta. Non appena entrai nell'appartamento, dissi in tono d'accusa, «Hai acceso l'incenso!». Si era già dimenticato della mia allergia. Con aria colpevole, mio padre ammise di aver acceso un po' di incenso, ma promise che non lo avrebbe più fatto. Lo fece ancora, invece. Lo faceva quando non c'ero, fuori dalla finestra, ma io lo sentivo lo stesso. Era un appartamento con due camere da letto. Lui dormiva in quella principale e io nell'altra, in un lettino singolo con le lenzuola rosa. Mio fratello dormiva sul divano letto. Io lo invidiavo per questo perché poteva restare sveglio a guardare la tv. Le uniche cose presenti nella mia stanza erano un letto e un cassettone bianco che non usavo quasi mai. Soltanto un cassetto conteneva vestiti, gli altri erano vuoti. C'era anche una scaffalatura con alcuni libri che mio padre aveva comprato per me. Mio padre mi comprava libri in continuazione. Sperava che diventasse intelligente come lui, un amante delle parole, della lettura. In effetti mi piaceva leggere, ma non ciò che intendeva lui, non roba colta. Mi piacevano i romanzi, non la saggistica, e poi odiavo quelle ruvide lenzuola rosa. Se me lo avesse chiesto, gli avrei detto di comprarmi le gialle, non rosa. Si impegnava però. A modo suo, ma si impegnava. Mi comprò un pianoforte usato e lo stipò in sala da pranzo tutto per me. Così avrei potuto esercitarmi anche quando stavo da lui, mi disse. Non lo facevo quasi mai. Il piano era scordato e non avevo il coraggio di dirglielo. In parte era quello il motivo per cui non vedevo l'ora che arrivasse l'estate. Così non sarei dovuta andare nel triste appartamentino di mio padre. Non che non mi piacesse vedere papà, anzi mi mancava tanto. Ma quell'appartamento era deprimente. Avrei preferito vederlo a casa nostra, nella nostra vera casa. Avrei preferito che le cose fossero come un tempo. E dato che mia madre stava con noi gran parte dell'estate, quando rientravamo mio padre portava me e Steven a fare un viaggio. Di solito andavamo in Florida a trovare la nonna. La chiamavamo nonnina. Era una vacanza deprimente. Nonnina passava tutto il tempo a cercare di convincere mio padre a tornare assieme alla mamma, che lei adorava. Hai parlato con l'Orel di recente? Gli chiedeva, anche molto dopo il divorzio. Odiavo che la nonna lo assillasse su quell'argomento. E comunque la situazione non dipendeva da lui. Era umiliante, perché era stata la mamma lasciarlo. Era stata lei a premere per il divorzio, a portare avanti la cosa. Ne ero certa. Mio padre sarebbe stato felicissimo di continuare a vivere così, nella nostra casa a due piani, con Claude e tutti i suoi libri. Una volta papà mi raccontò che, a detta di Winston Churchill, la Russia era un rebus avvolto in un mistero che stava dentro a un enigma. E secondo papà, mia madre era come la Russia. Questo fu prima del divorzio. E me lo disse con tono a metà tra il pungente e il rispettoso. Perché anche quando la odiava, la ammirava. Io penso che sarebbe rimasto con lei per sempre, a cercare di risolvere il mistero. Era un appassionato di rompicapo, una persona a cui piacevano i teoremi e le teorie. La X doveva sempre essere uguale a qualcosa. Non poteva semplicemente essere una X. Dal mio punto di vista, mia madre non era poi così misteriosa. Era mia madre. Sempre ragionevole, sempre sicura di sé. Per me era misteriosa quanto un bicchier d'acqua. Sapeva cosa voleva, sapeva cosa non voleva e non voleva essere sposata con mio padre. Non ho mai capito se avesse smesso di amarlo o se non lo avesse mai amato. Mentre eravamo dalla nonnina, mia madre partì per uno dei suoi viaggi. Andava in posti lontani come l'Ungheria o l'Alaska. Ci andava sempre da sola. Faceva fotografie, ma io non le chiedevo mai di mostrarmele. E lei non mi chiedeva mai se mi andasse di vederle. Capitolo 13. Ero seduta su una sedia.